Musica Crescono le fibrillazioni politiche all'interno dei partiti mentre si fa strada il fronte dei moderati. A Isernia chiusa una casa a luci rosse, giovani cinesi costretti a prostituirsi fermato un trentenne. I cittadini di Isernia contro gli aumenti dell'Atari mentre il comune spiega la sua posizione. I dati dell'Istat fotografano una realtà, quella molisana, che vede crescere la popolazione anziana. Riconoscimenti dalla Confesercenti Nazionale per Neuromed e la professionalità di Mario Pietracupa. Buon pomeriggio, ben trovati. Edizione delle 14 del nostro telegiornale. In attesa dell'approvazione della nuova legge elettorale per le regionali, si apre il fronte del dibattito politico sulle possibili alleanze e strategie elettorali. Un nuovo che deve nascere da una programmazione e non da ripicche. Il clima politico in Consiglio regionale comincia a riscaldarsi in vista della prossima scadenza delle elezioni regionali. C'è chi ha lanciato la sacra alleanza contro il presidente della giunta uscente, Paolo Frattura, disegnando un arco a più colori, dimenticando però che è un'alleanza che parte contro qualcuno di politico a ben poco. Anche perché la politica è costruzione di percorsi, di strategie e programmi al di là dei candidati a presidente. Cosa diversa, invece, è il percorso che era stato lanciato qualche tempo fa dal consigliere Vincenzo Niro, che aveva ipotizzato un'area vasta dei moderati con la guida nuova e capace di fare sintesi e rispetto delle alleanze che potrebbero aversi. È un passaggio che lo stesso Niro ha inteso lanciare in più occasioni. La verità oggi è che c'è la necessità che la politica torni a svolgere appieno il suo ruolo di strategie, di programmi e di visioni futuri. Una capacità di raccolta di idee per salvare il salvabile e disegnare una strada possibile per il futuro. Il Molise e soprattutto i molisani attendono da tempo risposte e soluzioni ai problemi di ogni giorno. È questo l'impegno che dovrebbe porsi a base di qualsiasi disegno politico progettuale per le prossime elezioni regionali. Di tempo ne è rimasto veramente poco per quelle che sono le speranze di futuro di un territorio. Giocarselo per ripicche del passato, per malumori del presente sarebbe oltremodo dannoso per le giovani generazioni. È allora che si pensi alla prossima scadenza elettorale delle regionali ma attraverso un'idea di costruzione e non di distruzione, di progettualità e non di ripicca. Sono questi temi che dovrebbero appassionare quanti si dicono pronti a scendere nel lagone politico. Il passato è passato in termini di nomi e di situazioni conosciuti. Il nuovo deve seguire altri percorsi. Il senatore Roberto Ruta ha partecipato questa mattina alla giornata di mobilitazione delle province per chiedere al governo nuove risorse finanziarie. Al Teatro Quirino di Roma sono stati chiamati a raccolta sindaci, presidenti di province e consiglieri provenienti da tutta Italia, come anche dal Molise con la presenza dei presidenti delle due province molisane Battista e Coia e dei consiglieri provinciali Delia e Cancellario. È necessario, sostiene Ruta, che il governo garantisca immediatamente alle province e alle città metropolitane, attraverso un emendamento alla cosiddetta manovrina attualmente all'esame della Camera dei Deputati, risorse consistenti affinché questi enti siano concretamente messi nella condizione di assicurare i servizi essenziali ai cittadini. Altrimenti al Senato, conclude il senatore Ruta, presenterò apposito emendamento certo di essere sostenuto dalla maggioranza dei senatori. Nei giorni scorsi abbiamo rilanciato la questione della realizzazione di due istituti scolastici nel capologo regionale senza gli appositi studi idrogeologici. Dopo la nota dell'Ordine dei Geologi del Molise abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine Giancarlo Delisio. Ascoltiamo. La cosa assurda è che si tratta di edifici nuovi che il Comune di Campobasso ha deciso di costruire senza ritenere di dovere prima procedere agli studi e alle indagini necessarie. Ritorniamo a parlare della delicata questione degli istituti scolastici di via Sant'Antonio dei Lazzari e via Berlinguer via Crispi. Ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine dei Geologi del Molise, Giancarlo Delisio. Appena siamo venuti a conoscenza della questione abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti abbiamo più volte cercato di avvicinare l'amministrazione per far comprendere come andavano fatte le cose infatti ci sono state anche tra l'altro delle interrogazioni comunali al riguardo, consigliari e tuttavia però l'amministrazione si è rilevata molto chiusa e che voleva andare dritta per la sua strada quindi senza fare le cose così come prevede la norma. Quindi come ha risposto in sintesi il comune di Campobasso? Ha risposto oppure proprio non ha risposto alle osservazioni che stavate facendo? Allora noi un anno fa praticamente, quasi un anno fa abbiamo fatto una diffida al comune di Campobasso in cui abbiamo appunto richiesto di mettere le cose a posto tra virgolette quindi di sanare la situazione incresciosa incaricando dei geologi che avrebbero dovuto fare delle relazioni geologiche con delle indagini tuttavia il comune dopo mi sembra due o tre mesi, non ricordo bene, comunque sono tutti dei dati certi ci ha risposto dicendo che sostenendo ancora quella teoria secondo cui il progettista si assumeva tutta la sua responsabilità e quindi secondo lui non erano necessari questi studi geologici e quindi le cose andavano bene così come erano invece le ultime vicende dimostrano esattamente il contrario quindi i studi geologici erano innanzitutto necessari e poi andavano commissionati direttamente dall'amministrazione pubblica alla stazione appaltante direttamente al professionista E intanto proprio l'ordine dei geologi precisa e si dichiara estraneo ad ogni possibile speculazione politica su questa vicenda ricordando di essere una istituzione apolitica e apartitica che così come da statuto agisce sempre nel rispetto della legalità per la tutela degli interessi dei propri iscritti e per la sicurezza dei cittadini e del territorio E siamo ora alla cronaca in quanto è stata scoperta a Disernia un'altra casa a Lucirosse Giovani ragazze cinesi erano costrette a prostituirsi in un appartamento del capoluogo Pentro Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione l'accusa a carico di un trentenne cinese Ma scottiamo Scoperta a Disernia un'altra casa a Lucirosse Un appartamento del capoluogo Pentro Il luogo in cui i giovani ragazze di nazionalità cinese si prostituivano sotto la gestione di un trentenne anch'esso cinese In base ai primi accertamenti si è potuto appurare che l'attività era svolta praticamente a tutte le ore del giorno e che le tariffe richieste per le prestazioni oscillavano tra i 50 e i 100 euro Variegata la tipologia dei clienti si tratterebbe di uomini di tutte le età residenti nella stessa città o provenienti da zone limitrofe Le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Isernia hanno consentito ai militari di sopraggiungere sul luogo e scoprire l'illecita attività proprio mentre una delle prostitute, tra l'altro priva di permesso di soggiorno, si accingeva a ricevere dei clienti poi identificati Immediate le misure del caso nei confronti delle trentenne già noto alle forze dell'ordine una denuncia per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione un decreto di espulsione invece nei confronti della ragazza Quest'ultima scoperta va ad aggiungersi a una serie di casi simili di cui il capoluogo è stato già protagonista Il fenomeno in città non è infatti una novità e di pochi mesi or sono la denuncia scattata nei confronti di altre tre persone resesi responsabili dello stesso reato In mattinata una giovane donna in cinta è stata investita da un'auto in piazza Cesare Battisti a Campobasso Immediatamente soccorsa anche dal conducente della macchina è stata trasportata con un'ambulanza in ospedale Per fortuna visto lo stato interessante non sembrerebbe avere riportato gravi conseguenze oltre la frattura del femore Hanno superato la sbarra e si sono introdotti all'interno della struttura che ospita la scuola elementare materna di Pantano Basso a Rio Vivo Nella notte appena trascorsa un gruppo di vandali ha danneggiato arredi urbani dell'edificio comportando un danno di circa un centinaio d'euro La scoperta questa mattina da parte dei collaboratori scolastici che hanno immediatamente denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine ora impegnate nei rilevi del caso Trattasi sicuramente di bravate di ragazzini, dichiara il dirigente scolastico Comunque preoccupato per il pericolo corso dagli stessi autori della bravata che per agire hanno compiuto un pericoloso salto dal tetto Ad Isernia la polemica sull'aumento dell'Atari, la tassa sui rifiuti scoppia anche sui social Tanti gli isernini che hanno utilizzato infatti Facebook per estrarne la propria rabbia Aumento dell'Atari, ad Isernia la polemica scoppia anche sui social Tante le lamentele in città a seguito degli importi maggiorati della tassa sui rifiuti I più penalizzati a quanto pare i gestori di attività commerciali che dovranno far fronte ad un importo quasi raddoppiato Va un po' meglio per i contribuenti privati anche se alcuni tra loro lamentano incrementi che sfiorano i 100 euro A rincarare la dose il fatto che alcuni sernini non avrebbero ancora ricevuto a casa i modelli per il pagamento A proposito dei moduli in questione, da segnalare un altro disguido Consegnati i 4F24 per il pagamento rateale, manca un modello unico per quanti volessero pagare in un'unica soluzione Eventualità questa al momento possibile solo effettuando contestualmente ed in successione il pagamento dei 4F24 Di qui le perplessità quando non addirittura la rabbia di tanti cittadini A parziale ristoro il fatto che, inizialmente fissato al 16 di maggio, ora il pagamento, informano dal Comune, slitta al 31 del mese, termine ultimo Per quella data, gli animi dei contribuenti sernini sulla questione si saranno un po' rasserenati, forse E sempre a proposito di Tari, sulla questione arrivano i chiarimenti dal Comune di Isernia In riferimento alle nuove tariffe, si legge nel comunicato stampa, gli aumenti medi per ogni utenza oscillano fra 0 e 20 euro Sono importi molto inferiori a quelli che circolano in questi giorni sugli organi di informazione e sui social Inoltre, ancora nel comunicato, si evidenzia come buona parte degli aumenti siano dovuti al raddoppio del tributo provinciale Gli introiti di tale tributo dovranno essere girati dal Comune alla provincia, quindi ne è l'unica responsabile e l'unica beneficiaria Questo è quanto concludono dal Comune Il resto è solo un elenco di lazioni inutili e tendenziose, atte fino anche a suggerire una pericolosa disobbedienza civile I dati Istat sulla popolazione anziana in Molise sono allarmanti Nel giro di un decennio si è avuta una crescita esponenziale con il venir meno della fascia giovanile della popolazione Ma vediamo Sono impietosi i dati dell'Istat pubblicati proprio oggi, nell'ultimo decennio, sulla questione dell'aumento della popolazione anziana in Molise Ormai è una fotografia che fa pensare o meglio dovrebbe far riflettere chi detiene le leve del potere regionale ma non solo Su questi numeri Voi pensate che dal 2002 al 2016 l'indice di vecchiaie è passato dal 147 al 201% che è il primo in Italia Ed è un dato drammatico come quello dell'indice di natalità sceso ormai dall'8 al 7% mentre la mortalità è passata dal 10 al 12% Anche noi che non siamo pratici in matematica ci rendiamo facilmente conto che con questi indici Nell'arco del prossimo decennio sul territorio molisano resteremo forse meno di 200.000 abitanti In effetti sono scesi, il numero è sceso già dal 2002 320.467 abitanti a 312 e forse anche qualcosa in meno Visto che il dato è quello del 2016 ma è un numero ai noi purtroppo che sta scendendo ancora di più E da 0 a 14 anni, da 45.900 ragazzi, da 36.585 Un numero in calo mentre cresce la popolazione anziana Vengono meno i servizi E' chiaro che questa fotografia diventa una fotografia impietosa della regione molise E crediamo che a questo punto qualcuno debba pure vedere, analizzare e soprattutto, passateci il termine Comprendere questi dati perché senza comprensione la politica sicuramente soluzioni a questo problema non ne troverà Da oggi è ripresa l'attività di somministrazione dei farmaci oncologici presso il plesso ospedaliero di Termoli Al trasferimento delle attività di somministrazione dei farmaci oncologici dalla Casa della Salute di Larino Al plesso ospedaliero di Termoli Ad assicurarlo è la direzione aziendale Asrem a seguito dei problemi che si sono registrati nella giornata di ieri Una eccellenza molisana nell'ambito della ricerca scientifica e per la qualità delle cure Questa è la motivazione del riconoscimento consegnato ieri all'Istituto Neuromed a Pozzilli dalla Confesser Centi Vediamo L'Istituto Neuromed premiato dalla Confesser Centi quale eccellenza molisana nell'ambito della ricerca scientifica e per la qualità delle cure Il riconoscimento è arrivato ieri a Pozzuoli nel corso dell'Assemblea Interregionale della Confesser Centi Tenutasi nella splendida cornice dell'Accademia Aeronautica A ritirare il premio il presidente della Fondazione Neuromed Mario Pietracupa Che ha ricevuto anche un riconoscimento alla carriera consegnato dal comandante dell'Accademia Il generale Nicola Lanza De Cristoforis Dal presidente nazionale Confesser Centi Massimo Vivoli E dal presidente interregionale della Confesser Centi Vincenzo Schiavo Devo dire che è un'emozione sempre ricevere un riconoscimento Ma è anche una responsabilità perché nel momento in cui ti viene riconosciuto qualcosa Devi comunque mantenere degli standard elevati E io credo che l'eccellenza non possa essere soltanto uno slogan ma un obiettivo da raggiungere Da conservare sempre con tenacia e con forza Puntando sempre al massimo, dando il massimo contributo In questo caso però vorrei anche dire che il merito va riconosciuto a quelle donne A quegli uomini che con grande impegno, con grande passione, con grande coraggio Quotidianamente danno il proprio contributo Se ci viene riconosciuto qualcosa al di fuori della nostra regione Evidentemente è proprio perché c'è questo gioco di squadra che ci rende ancora più forti La fondazione Neuromed ha tra i suoi obiettivi proprio la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica E della conoscenza dell'attività di ricerca nel settore delle patologie neurodegenerative e rare Ma tra gli obiettivi futuri vi sono attività dedicate ad una maggiore promozione Della conoscenza proprio delle malattie rare e della ricerca nel settore C'è sempre qualcosa di nuovo da fare, in modo particolare c'è l'impegno grandioso, gravosissimo Di Cyberbrain che è una scommessa incredibile sulle nuove tecnologie Che noi faremo insieme ad altri partner internazionali E poi il momento anche questo di scommettere sempre sulla ricerca sulle malattie rare Oggi, domani saremo tra l'altro in udienza da Papa Francesco con i malati di Huntington Proprio perché ci sia una diversa concezione, una diversa attenzione Anche per quei pochi che hanno patologie particolarissime Noi dimostriamo quotidianamente e ancora di più ora vogliamo dimostrare che ci siamo anche per loro Proprio per dare sollievo, speranze a tutti coloro che hanno problematiche E poi ci sarà un grosso convegno anche sulle malattie rare sempre a Ponza nel mese di giugno Dove si farà un po' il punto della situazione tra addetti e lavori Insomma ci diamo da fare, non ci facciamo mancare nulla La Campania e il Molise insieme in una sfida nuova della Confesercenti Eletto il primo organismo interregionale, primo esempio in Italia Il neoletto Presidente e Vincenzo Schiavo erano parte della Presidenza Graziano D'Agostino e Pasquale Oriente Presidente Schiavo, prima assemblea elettiva che la vede alla guida di questo nuovo soggetto Un soggetto unico che abbraccia Campania e Molise Ovviamente dando uno sguardo, un'occhiata anche al di là del mare Assolutamente sì, è una grande opportunità mettere insieme le nostre due regioni Avere la Campania che ha 480 km di costa verso il mare Avere il Molise che ne ha 35 anche essa verso il mare Mettere insieme le nostre due regioni Perché possono essere uno scacchiere fondamentale per il sud Perché possono far rialzare il sud, perché possono dare economia Perché possono sostenere i giovani che hanno bisogno di trovare risposte E lavoro sul nostro territorio e hanno bisogno di poter trovare la speranza Confesercenti parte da questo Mettiamo insieme le nostre regioni perché abbiamo voglia di dare delle risposte Alle nostre imprese e ai giovani del sud Direttore, un'altra bella sfida Quella della Confesercenti interregionale Che la vede ovviamente anche qui alla guida di questo nuovo soggetto Insieme ad altri rappresentanti appunto della Campania Sì, oggi è la conclusione di un procedimento che è durato quasi un anno Un progetto di unificazione delle due organizzazioni Campania e Molise Il primo progetto in tutta Italia portato a termine dalla Confesercenti Sperimentale Oggi abbiamo vissuto molta partecipazione da parte di iscritti Da parte di imprese, da parte dei rappresentanti tutti È un progetto ambizioso Noi ci vogliamo porre come una sorta di globalizzazione all'interno della nostra organizzazione nazionale E intendiamo mettere insieme tutte le sinergie, le migliori sinergie Sia di una regione Molise, sia della regione Campania Dei nostri quadri dirigenti Per poter offrire sempre di più alle imprese migliori servizi di qualità E sempre più servizi innovativi E a conclusione dell'assemblea elettiva della Confesercenti Sono state premiate 20 aziende 15 della Campania e 5 del Molise La Pontificia Funderia Marinelli L'azienda Vitivinicola Colle Sereno L'azienda Agricola Ares Il Caseificio Barone, poi la Neorome Del cui Presidente Mario Pietracupa Ha ricevuto anche il riconoscimento alla carriera Per i traguardi professionali conseguiti Nasce il Patto d'Acciaio per la Sicurezza Così è stata denominata l'iniziativa di numerose amministrazioni comunali Della Valle del Volturno I sindaci uniti chiederanno con forza all'ANAS Un ammodernamento efficace della Statale 158 La sicurezza al primo posto E questa è l'idea che sta nascendo tra numerosi enti locali Dell'Alta Valle del Volturno Preoccupati sempre più dalle condizioni in cui versa la Statale 158 L'arteria stradale rappresenta il passaggio vitale del commercio Di gran parte del centro-sud Perché fa da collegamento tra Molise, Abruzzo, Lazio e Campania Insomma, un'arteria fondamentale per centinaia di migliaia di persone E soprattutto per l'asse industriale campano-abruzzese Ma da anni la transitabilità di quest'arteria è messa a dura prova Dall'incuria, da un manto stradale non all'altezza E soprattutto alla mancanza di un percorso sicuro per gli autotrasportatori Ci sono troppe curve pericolose e troppi tratti dove la visibilità è davvero scarsa Il tratto che preoccupa maggiormente, come ripetuto più volte negli anni È quello che collega quali a Volturno a Montaquila viaggiando in direzione Venafro Nell'ultimo periodo sono stati effettuati piccoli interventi di manutenzione genetica E l'estate scossa l'installazione dei paracarri salvavita per i motociclisti Poi nulla più Da questa esigenza scaturisce l'idea di diversi sindaci della zona Il patto d'acciaio per la sicurezza, così è stato denominato Vedrà l'unione di più amministrazioni comunali Che dopo 30 anni torneranno a chiedere a gran voce All'ente competente su quell'arteria stradale Una messa in sicurezza completa E soprattutto la rivalutazione di un progetto di ammodernamento serio E consono al 2017 Torna di moda la questione sicurezza nella valle del Volturno E la statale 158 è la prima iniziata Termina domani la tre giorni del percorso formativo Generazione in Rete H24 Un progetto che ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Casa Galenda Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Molise E la Commissione Pari Opportunità della Regione Molise Si terrà domani a Casa Galenda la giornata conclusiva del percorso formativo Generazione in Rete H24 La tre giorni ha voluto mettere in evidenza quanto sia pericoloso il mondo cibernetico E quanto i giovani siano legati all'uso di congegni elettronici Tra i progetti, i cui risultati saranno illustrati domani E' quello di lasciare senza cellulare per una giornata intera gli alunni Questo progetto è nato proprio dall'esigenza anche dei ragazzi Di essere più informati sulle tematiche del web Dei pericoli, perché questi ragazzi sono connessi praticamente 24 ore su 24 E a volte non si rendono conto dei pericoli a cui vanno incontro nella rete L'incontro che si terrà domani sarà quello conclusivo E allargato alla popolazione e alle famiglie In cui noi raccoglieremo dei lavori che hanno prodotto i ragazzi Sono venute fuori delle cose molto interessanti Alcuni ragazzi non sapevano l'esistenza di una biblioteca Perché ormai con molta facilità si va solo su internet per cercare qualsiasi cosa A promuovere l'iniziativa la presidenza del Consiglio regionale Unitamente alla Commissione Pari Opportunità Che continua a lavorare sulla mission del contrasto alla violenza di genere I giovani oggi necessitano quindi di avere all'interno delle scuole Una guida Una guida che li aiuti A individuare in se stesse e con la diversità La diversità oggi non deve essere una diversità intesa come Punto debole Ma dobbiamo aiutare i nostri giovani affinché la diversità possa essere un punto di forza Siamo qui presenti a Casa Calenda Domani ci sarà la giornata conclusiva Ma saremo presenti anche con altre iniziative sul territorio regionale Differenti sì ma differenti non discriminati E ancora una vittoria per Stefano Rufo alla prova del cuoco Nella puntata odierna in diretta su Rai 1 Lo chef di Castelnuovo al Volturno Denominato simpaticamente Grande Chiacchierone Per la sua capacità di illustrare i piatti E di pubblicizzare la sua terra dalla conduttrice Antonella Clerici Ha sconfitto l'Emilia Romagna e il comune di Roncofreddo Questa volta a premiarlo le sue sagne a pezzi con i gamberi di fiume Con il 63% dei voti dei telespettatori La vittoria è la seconda semifinale vinta in una settimana Ormai la finalissima della nota trasmissione è a un passo Dunque complimenti allo chef di Castelnuovo Che con le sue performance offre l'opportunità di una piccola grande vetrina per il Molise Parte dall'Unimol il TFA per il sostegno In tutto 370 posti disponibili per gli aspiranti insegnanti Ma vediamo Mondo Scuola Un decreto del Ministro dell'Istruzione assegna 370 posti all'Unimol Per la formazione di altrettanti insegnanti di sostegno Il percorso di formazione mediante TFA Tirocinio formativo attivo È finalizzato appunto al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico Agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia Primaria e secondaria di primo e secondo grado Finalità del corso risiede nella formazione di professionalità Con competenze specifiche legate al trattamento efficace della disabilità Diversi gli aspetti da tenere in considerazione Da quelli sociali a quelli medici a quelli più propriamente legati alla formazione Possibile iscriversi alla prova selettiva fino alle 15 di domani venerdì 19 maggio Requisito d'accesso il possesso di diploma magistrale conseguito fino al 2001 Laurea in scienze della formazione primaria o una qualsiasi altra laurea con abilitazione La tassa per sostenere la prova ammonta a 150 euro Il corso universitario ha invece un costo di 2.500 euro Il bando con i relativi allegati e la normativa di riferimento Sono disponibili anche sulle pagine web della segreteria studenti del portale Unimol Alla sezione formazione insegnanti Ed era questo l'ultimo servizio ora diamo spazio alle previsioni del tempo Previsioni per oggi giovedì 18 maggio Tempo stabile e assolato con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata Grazie al persistere del campo di alta pressione le temperature sono in generale aumento con estremi di 17 e punte di 27 gradi Ma vediamo nel dettaglio le temperature Campobasso massima 21 minima 11 Isernia massima 25 minima 11 Termoli massima 22 minima 14 Venafro massima 27 minima 13 Per la giornata di domani si ripropongono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso Eccezione fatta per lo sviluppo di innocui cumuli pomeridiani sulle zone interne dell'Appennino Temperature in ulteriore aumento con picchi massimi fino a 27-28 gradi E per questa edizione è tutto Io vi ringrazio per l'attenzione Vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti